A due anni e tre mesi dalla sua chiusura sono stati consegnati lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia di Isella sulla Statale 36. Un'unica campata di 50 metri poggiata su travi in acciaio è dotata di un percorso ciclopedonale, durata dei lavori 340 giorni per un importo di poco meno di 2 milioni e mezzo di euro. L'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, è intervenuto alla consegna dei lavori che si è svolta presso la sala consigliare del municipio di Civate alla presenza del sindaco Ballassare Mauri. Il cavalcavia di competenza comunale era stato chiuso al traffico per motivi precauzionali a causa dei risultati delle indagini tecniche avviate sulla struttura nelle settimane successive al crollo del ponte di Annone. La consegna dei lavori, ha dichiarato la D. Simonini, è il risultato della fattiva collaborazione tra Anas e enti locali e rappresenta un obiettivo importante per il territorio. La chiusura al traffico del cavalcavia ha creato importanti disagi agli abitanti della frazione di Isella che si sono trovati, dall'oggi al domani, isolati dal resto del territorio comunale. Anas è intervenuta stringendo al massimo i tempi necessari per la progettazione e la procedura della gara, dice Simonini. E oggi formalizziamo l'atto di consegna che concretizza il via libera all'avvio degli interventi che partiranno già nei prossimi giorni. Il nuovo cavalcavia di Civate sulla 36 sarà costituito da un'unica campata della lunghezza di 50 metri realizzata tramite una soletta in calcestruzzo armato poggiata sulla parte inferiore di due travi laterali all'impalcato. Tale modalità costruttiva consentirà di realizzare un'altezza tra la statale sottostante e il nuovo cavalcavia maggiore di quella precedente, salvaguardando in tal modo la nuova opera da accidentali impatti di veicoli fuori sagoma in transito sulla 36. Completerà il nuovo ponte un percorso ciclopedonale. La consegna dei lavori di ricostruzione del cavalcavia è stata l'occasione per il sopralluogo dei vertici Anas presso l'area di cantiere allestita ad Annone e Brianza dove proseguono i lavori per la ricostruzione del viadotto di Annone crollato nell'ottobre del 2016. Per quanto riguarda il dettaglio delle lavorazioni anticipate da una complessa bonifica bellica dell'area che per la natura del terreno ha richiesto circa tre mesi di attività sono in corso le fasi terminali di costruzione delle spalle laterali spiega lente strade. È stato avviato il trasporto in cantiere delle componenti metalliche della nuova struttura per l'assemblaggio che avverrà in loco presso un'area limitrofalla 36 già attrezzata allo scopo. Si prevede l'ultima azione dei lavori entro la prima metà di maggio.